Musica Ancora furti nella notte a San Gordiano, presa di mira l'abitazione di un pensionato di Via delle Camelie, i residenti torrono a far sentire la propria voce. L'Oculity Day pien di bene, Cascianelli e Madonna difendono il Project Financing che puntano il dito contro Moscherini che non avrebbe prolungato la convenzione. Calcio Serie D, settimana decisiva per il Civitavecchia Calcio, nei prossimi giorni ultime modifiche alla rosa dei calciatori, il 16 dicembre infatti scadono i termini. E ben trovati in nuova edizione del telegiornale Alto Lazio, subito furti nella notte a San Gordiano. Questa volta è stata presa di mira l'abitazione di un pensionato in Via delle Camelie. I residenti della zona tornano a far sentire la loro voce e chiedono maggiore attenzione ai due quartieri. Continua senza tregua l'attività delle forze dell'ordine che hanno aumentato i controlli. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. I forze dell'ordine non abbassano la guardia e continuano a monitorare attentamente la situazione riguardante all'ondata di furti a San Gordiano e Boccelle. Su indicazione del questore Francesco Tagliente, polizia e carabinieri hanno incrementato il personale impiegato sia di giorno che di notte e c'è già chi pensa a delegare anche alla Polizia Municipale l'attività di vigilanza in una zona presa di mira dai ladri. Un fenomeno, quello dei furti negli appartamenti, che tra minimizzazione degli episodi e l'amplificazione degli avvenimenti fino a renderli simili a leggende metropolitane, continuano a far dormire sogni tranquilli ai residenti della zona. Proprio gli abitanti, nutriendo fiducia nelle forze dell'ordine, invitano ancora una volta polizia e carabiniere ad adoperarsi al massimo per assicurarsi alla giustizia gli autori degli episodi criminosi. Un tentativo di furto si è verificato proprio l'altra notte e solo per un caso i ladri non sono riusciti a svaliggiare l'ennesimo appartamento. Non è andata bene, invece, ad un pensionato in Via delle Camelie che nella stessa notte ha subito la visita indesiderata dei soliti ignoti. E tra episodi singoli e psicosi collettiva rimane un problema non risolto, nella speranza che presso gli autori dei furti vengono assicurati alla giustizia. E sono terminate lo scorso fine settimana le operazioni di messa in sicurezza del ponteggio del cantiere della Privilege Yard, posto sottosequestro ad ottobre. Dopo un primo parziale di sequestro per consentire alle maestranze di poter proseguire lavori, almeno all'interno del mega yacht in costruzione nella zona nord del porto, l'avvocato Pier Salvatore Maruccio, legale dell'amministrazione delegato della Privilege, attualmente indagato insieme al dirigente protempore con l'ipotesi di reato di inottemperanza le leggi relative alla sicurezza sul lavoro, ha depositato istanza di dissequestro totale del ponteggio. Spetterà quindi alla ASL in prossimi giorni eseguire le verifiche sul campo e poi alla magistratura decidere se sbloccare o meno il cantiere. Si è fatto portavoce delle stanze e degli utenti il titolare del bar all'ingresso del cimitero nuovo a Civitavecchia ed ha inviato una richiesta alla municipalizzata del trasporto pubblico locale per segnalare la mancanza di pensilina, orari e percorsi alla fermata dell'autobus sulla braccianese Claudia. La fermata, aggiunto il barrista, non è provvista neanche di illuminazione pubblica. La richiesta è di mettere in sicurezza la zona e adeguare lo stato della fermata. E non si placano le polemiche sui loculi e sul project financing per la loro realizzazione. Dopo la decisione della Corte dei Conti, infatti Pietro Tidei, Marco Piendi Bene, Roberto Madonna e Giuseppe Cascianelli difendono l'operazione e puntano il dito contro l'attuale amministrazione. Il danno spiegano è imputabile solo al sindaco Moscherini. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Il danno è imputabile solo al sindaco Moscherini e ai suoi comportamenti omissivi nella gestione della vicenda. Ne sono convinti il parlamentare del PD Pietro Tidei, il capogruppo in consiglio Marco Piendi Bene e l'ex assessore Giuseppe Cascianelli, intervenuti sulla vicenda dei 3.200 loculi del nuovo cimitero dopo che la Corte dei Conti ha parlato di danno erariale da circa 3 milioni di euro. Con loro a ripercorrere l'iter amministrativo e giudiziario, anche l'ex dirigente ai lavori pubblici Roberto Madonna. Non mi è ancora stato notificato nulla, ha spiegato Tidei, e comunque non capisco perché siamo stati chiamati in causa noi. La convenzione fu stipulata nel 2001 da Guglielman e noi già non c'eravamo. L'ex primo cittadino ha poi difeso la scelta del project financing. Dovevamo fronteggiare l'emergenza loculi, aggiunto, e come amministrazione ci siamo mossi su tre fronti. Il ricorso al project financing, anche per restituire centinaia di loculi alle persone a cui li avevamo sequestrati per le sepolture, l'esumazione al vecchio cimitero e la realizzazione delle cappelle. Il commissario Di Caprio voleva annullare la convenzione in autotutela, ha aggiunto l'ingegner Madonna, mentre il commissario Iurato propose di prorogare la convenzione per consentire alla ditta Ruggeri di avere più tempo per vendere i loculi senza oneri per il comune. E secondo Tidei, pien di bene Cascianelli e Madonna, la chiave di tutto è proprio nella delibera della Iurato. Moscherini non ha dato seguito a questo atto, ha spiegato Tidei, anzi si è rifiutato di firmare la lettera preparata dagli uffici per comunicare ufficialmente la proroga alla ditta, è andato in giudizio contro la Ruggeri e ha perso nel 2010 lodo arbitrale con il comune condannato a pagare circa 3 milioni di euro. E proprio Tidei, che ha parlato di porcata e superficialità con cui è stata trattata la vicenda, ha ricordato come la Corte dei Conti non abbia tenuto conto del fatto che l'ingegner Madonna è stato prosciolto da ogni accusa sul suo operato dal Tribunale di Civitavecchia, a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza, smentita, ha aggiunto proprio da questo proscioglimento. Intanto oggi il comune incassa i soldi dalla vendita di loculi che non ha costruito e non paga la ditta in base al lodo. Secondo l'assessore dell'epoca Cascianelli, quel project financing fu un'operazione straordinaria, non capisco perché, ha aggiunto, siano stati chiamati in causa gli assessori, visto che l'aggiunta ha espresso un parere favorevole senza entrare nel merito della convenzione, se il danno è da debitare, lo è a chi finora è stato inerte. E come ha poi aggiunto PN di Bene, a cinque mesi dall'attesissimo appuntamento elettorale, c'è una parte politica in difficoltà che arranca e si attesta al 30% delle preferenze, e per questo ha aggiunto che si è messa in moto la macchina del fango. Questa amministrazione non ha responsabilità sulla vicenda, fatto dimostrato dai nomi interessati dall'invito a dedurre. Lo ha ribadito il consigliere del PDL Pasquale Marino, che sulla vicenda dei loculi ha sottolineato che la giustizia ha bisogno di spazio. Credo, ha aggiunto, che la verità vada accertata a prescindere dalle responsabilità, anche perché in tempi non sospetti proposi una mozione in Consiglio Comunale, ancora non discussa, in cui rilevavo la necessità di fare chiarezza sui fatti. Inoltre, nella stessa mozione, precisavo come l'accertamento dovesse concentrarsi sul procedimento, dagli atti iniziali, sino alla conclusione, alle irregolarità o domissioni, sia con responsabilità politica che gestionale, che hanno portato al gravissimo danno d'immagine alla città, a seguito del sedicente Project Financing per la costruzione di 3.200 loculi. L'auspicio, ha aggiunto l'esponente del PDL, è che i cittadini possano farsi un'idea della questione, attraverso una discussione pubblica in Consiglio Comunale della mozione che ho presentato. Al di là della vicenda, comunque appare grave che si possa essere speculato sui cittadini defunti e sulle loro famiglie. E' grande partecipazione del territorio alla manifestazione nazionale promossa ieri a Roma contro i tagli della manovra finanziaria. Importante e visibile stata la presenza di lavoratori pensionati, cittadini del territorio di Civitavecchia, che hanno risposto all'appello delle confederazioni territoriali, hanno spiegato soddisfatti i segretari di CGL Cisle Will, Cagliazza Barbere di Marco. Come sindacati stiamo lavorando in questi giorni per la piena riuscita dell'Assemblea pubblica del 15 dicembre presso l'autorità portuale. Un'iniziativa importantissima che vedrà la partecipazione dei segretari generali CGL Cisle Will di Roma e Lazio, finalizzata a descrivere le ricadute della manovra del governo sul nostro territorio e di indicare una strategia per affrontare la crisi e rimettere in moto lo sviluppo nel circondario di Civitavecchia, a promuovere azioni finalizzate a creare nuovi posti di lavoro, partendo dalla difesa dell'occupazione che c'è ad iniziare, quindi dalla difesa del Tribunale, dell'esperienza, dell'unione musicale, dell'informazione locale attaccata dall'ipotesi di cancellazione del fondo per l'editoria. E' stata pubblicata a partire da oggi all'albo operatorio del Comune di Civitavecchia la graduatoria del Bando Generale 2010 dell'assegnazione all'oggi ERP. La graduatoria rimarrà affissa per 45 giorni. E si intensificano i controlli del Corpo Forestale dello Stato al fine di contrastare il fenomeno del bracconaggio. In questo periodo, infatti, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la fauna selvatica ha rallentato le proprie attività biologiche in vista della stagione invernale. Ma i bracconieri continuano comunque a cacciare le specie svernanti e migratorie. In questi giorni, infatti, il comando della stazione forestale di Tarquinia ha denunciato all'autorità giudiziare un cacciatore perché stava esercitando l'attività venatoria con l'aiuto di un richiamo acustico. Al cacciatore originario di Prato sono stati sequestrati i fucili, le munizioni e lo strumento illecito di caccia. I ci su nuovi terreni edificabili inseriti nel piano regolatore generale giovedì alle 18.30 incontro presso il comune di Ladispoli. Come promesso nella riunione precedente, dice il consigliare comunale e delegato all'agricoltura Angelo Leccesi, l'amministrazione comunale ha indetto un nuovo summit prima della scadenza dei termini. Potranno quindi intervenire tutti i cittadini che hanno ricevuto la richiesta del pagamento del lici per i terreni agricoli passati edificabili in seguito all'adozione del PRG. E incidenti a catena ieri all'altezza della provinciale Sasticari al chilometro 3.400, una punta uscita di strada. Per fortuna sul posto c'erano gli uomini dell'amministrazione provinciale che hanno aiutato il conducente e regolato il traffico. Inoltre, mentre stavano operando i soccorsi, una ragazza a bordo di una lancia YY ha pattinato sull'asfalto ed è uscita di strada colpendo prima la punto degli stradini che stavano soccorrendo il conducente dell'auto incidentata e poi altre automobili uscite di strada. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone a determinare gli incidenti, una lunga striscia di gasolio che poi è stata rimossa dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Civitavecchia. Solidarietà e passione si coniugano in vista del Natale e del nuovo anno nell'iniziativa promossa dall'associazione lampeggiante Blu Onlus. Ne abbiamo parlato con il presidente che sentiamo in questa intervista. Blu è un'iniziativa organizzata dal club lampeggiante Blu Onlus che è un club sostanzialmente di auto d'epoca però con una particolarità e si prefigge di reperire, restaurare e conservare il patrimonio d'epoca delle auto e delle forze dell'ordine. Però c'è una particolarità in tutto questo che oltre a conservarle, amarle, mostrarle in pubblico noi le utilizziamo per fini benefici. Quindi le portiamo in giro negli ospedali cariche di giocattoli alla guida il nostro personale vestito da Babbo Natale facciamo trascorrere delle giornate diverse ai bambini cerchiamo di tirarli un po' su li riempiamo di doni e in questo caso la nostra ultima iniziativa consiste nella realizzazione di un calendario per fini benefici dove il ricavato totale della vendita sottolino totale perché nessun euro verrà utilizzato per sostenere la nostra organizzazione andrà direttamente versato nelle casse delle orfanotropi FIO per bambini abbandonati di Agadir Ecco, com'è nata appunto questa iniziativa di questo calendario? Allora, è nata perché noi avevamo visto che durante le nostre manifestazioni eravamo sempre attorniati dai bambini i bambini volevano sempre fare le foto con le nostre macchine ci poteva essere la Ferrari più lussuosa del mondo però volevano tutti stare sulle auto e volevano magari smanettare con la radio abbiamo iniziato a fargli fare qualche giro con le sirene, con i lampeggianti e veramente ho visto che rimanevano completamente soddisfatti addirittura ci scrivevano i genitori per ringraziarci della giornata trascorsa e dell'imprinting positivo che avevamo dato con questa manifestazione e quindi abbiamo detto inventiamoci qualcosa per fare del bene e quindi il calendario il calendario che verrà appeso speriamo in tutte le case degli appassionati ogni giorno che vedranno insomma le nostre foto penseranno che una piccola goccia è arrivata nel mare della beneficenza Ecco, come si può contribuire e quindi come si può acquistare questo calendario? Certo, semplicemente consultando il sito www.lampeggiantiblu.it all'interno ci sono tutte le informazioni per acquistare noi le possiamo spedire comodamente a casa basta inviare una mail a info-lampeggiantiblu.it Ed ora passiamo alla consueta pagina sportiva settimana decisiva per il mercato del Civitavecchia Calcio in serie D Il 16 dicembre scadono infatti i termini ultimi entro quella data i Nerazzurri dovranno aver ufficializzato tutti i movimenti sia in entrata che in uscita Mister Romano ha chiesto al presidente Clemeno un centravanti di esperienza un finalizzatore che possa risolvere il problema del gol della squadra ed alcuni giovani validi per avere più alternative nella fascia under A proposito i Nerazzurri sarebbero in contatto con il Pisa che potrebbe prestare tre giovani in esubero presso la propria squadra attualmente militante in C1 e pagare loro in parte anche lo stipendio per l'attaccante si dovrà decidere a breve è difficile trovare un buon compromesso fra qualità ed economia la società dovrà decidersi in fretta onde evitare di rimanere a bocca asciutta Grande soddisfazione per l'Aurelia Karting Club che con le gare di domenica in 5 categorie ha avuto un grande successo di pubblico e di kartisti uno dei dirigenti del club Andrea Carlucci ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-evento di domenica siamo veramente orgogliosi perché in un momento di crisi del kart in Italia siamo riusciti ad avvicinare tante persone a questo sport ha detto abbiamo una scuola per i bambini dai 4 ai 14 anni che funziona tutta la settimana e siamo sicuri che nella prossima stagione questo momento positivo possa continuare devo dire che la federazione non aiuta per niente chi fa kart da anni e continua a stupire la nostra Serena Scipione che in occasione di un meeting internazionale a squadre tenutosi a Brescia ha ottenuto un nuovo primato gareggiando in vasca lunga nella specialità 50 a dorso la nuotatrice paraolimpica Civita Vecchiese ha fermato il cronometro a 1 minuto 34 secondi e 39 decimi realizzando il record italiano nella relativa distanza un risultato inaspettato commenta Serena perché è da lunedì che ho l'influenza infatti nei 100 stile la stanchezza si è fatta sentire ho fatto quasi 3 secondi sopra il mio record sono quindi molto soddisfatta e bella vittoria per la woman Civita Vecchia che sul campo di Allumiere a causa dell'impegno casalingo del Civita Vecchia di Patron Clemeno batte 1 a 0 il Pink Sport di Bari con questa vittoria significativo balzo in avanti in classifica questa era la nostra ultima notizia il telegiornale Alto Lazio torna con una nuova edizione alle 19.45 grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.